Parliamo di mutui prima casa, in particolare di quelli a condizioni più leggere, perché dal 21 scorso un fondo istituito con un decreto legge del 2008 consente alle giovani coppie e ai nuclei monogenitoriali di accedere a finanziamenti agevolati per sostenere le spese del mutuo. Un fondo che finora per la verità non ha avuto molta fortuna perché i giovani si sposano di meno che in passato e perché il provvedimento mette un sacco di paletti. Qualcosa però nel tempo è cambiato, ad esempio vi accede non solo chi ha un reddito da lavoro indipendente, ma anche un contratto a tempo, cioè chi è precario. Piccola differenza, dottor Carrella, quali altre novità presenta il fondo, a quali tassi e come vi si accede? Ci sono anche poi novità sostanziali anche sul tasso. Ci sono state all'interno delle righe della norma introdotta delle situazioni che sorridiamo perché probabilmente si è capito soltanto il legislatore. Qual era il riferimento del tasso da applicare su questo tipo di agevolazione? Il legislatore che poi per fortuna ha fatto anche in questo caso un riferimento scontato e ha dato possibilità di accedere a una conoscenza un po' più superficiale per noi comuni cristiani. Tant'è che il riferimento che hanno inserito adesso nel DPR del 103 del 2013 è quello del tasso attivo globale medio sui mutui che è pubblicato, lo sappiamo, annualmente dal Ministero dell'Economia. Quest'anno questi tassi, per evitare tutte quelle problematiche operazioni, stanno praticamente al 5,9% variabili e al 3,68% secondo quello che è stato comunicato praticamente dalla Banca Italia nella informazione che ha reso pubblica il 25 giugno scorso. Poi ci sono, naturalmente abbiamo detto che deve essere tutto attestato da una certificazione ISEE quindi chiaramente questa certificazione ISEE ha alzato praticamente il limite di reddito, cioè ha portato a 40.000 euro il reddito, il livello massimo dove non deve essere superato rispetto in questo caso a 35.000 euro. Sorprende, sorridiamo, sorprende questo aspetto di aver aumentato, sì è vero non deve essere tutto formato dal reddito lavoro dipendente, ma hanno aumentato la sticella da 35.000 euro a 40.000 euro. Tant'è che fino ad oggi dicono dalle nostre parti che nessuno si è filato questo tipo di intervento, forse perché troppi paletti, troppe situazioni in qualche modo garbugliate che non danno quella semplicità, soprattutto quella condotta per cercare di accedervi. Soprattutto poi ci sono anche le banche, le banche sa benissimo che questo fondo è praticamente distribuito attraverso una filiera di banche, se il genitore o il giovane genitore intende poi chiedere informazioni alla banca, se la banca entra in questa filiera e è disponibile, eventualmente invece laddove non ci fosse chiaramente cerca di scoraggiarlo per recuperare il cliente e per fare eventualmente l'impiego proprio. Ad ogni modo è un'opportunità, l'abbiamo anticipato settimana scorsa, ci sono state anche già delle segnalazioni e che i tempi relativamente alla possibilità di avere la domanda accolta sono anche questi un po' allungati, nel senso ci sono 30 giorni e la banca comunicherà alla coppia eventualmente l'accesso al beneficio.